Occhio a Baltesco! Dentro Doni! Cristiano Doni! Sottietro per lui! L'ostraordinario Natalanta che sta perdendo dimostra tutti gli intervioli un'attività di festa di Murillo La Juve vince a Bergamo e due settimane dopo aver visto il diavolo a soli due punti torna in paradiso con il graffio di Olivera e il rigore di Del Piero Delio Rossi affida a Lazzari, giustiziere dei bianconeri in Coppa Italia il compito di svegliare l'attacco più sterile del campionato Capello dal canto suo sceglie Olivera per sostituire Nedved a fianca Tachinardi a Emerson e davanti conferma la coppia Treseghe e Ibrahimović Il terreno di gioco è in pessime condizioni ma il franco argentino trova subito la ricetta per evitare le zolle L'anticipo su Sala e la battuta di prima intenzione meriterebbero il gol il volo di Calderoni è anche più bello e l'Atalanta è salva L'esordio di Makinwa con la nuova maglia arriva prima di ogni previsione causa l'infortunio di Budan Per il vantaggio bianconero invece bisogna attendere il ventitreesimo Motta e Sala perdono di vista i compagni di reparto Emerson scatena Olivera in perfetta solitudine e sull'uscita forse affrettata di Calderoni all'uruguaiano basta un tocco per mettere il terzo sigillo stagionale La gara dei padroni di casa è in salita e nove minuti più tardi potrebbe diventare un incubo Cavoranesi pennella sul secondo palo Trezeghe ruba il tempo a Natali ma perde quello dello stacco e alza troppo la conclusione Il giovane attacco nera azzurro a velocità e tecnica per mettere in difficoltà la difesa bianconera ma per vedere un intervento di Buffon bisogna aspettare il trentacinquesimo Lazare è in agguato sul calcio di punizione di Bernardini ma il portiere Juventino nasconde la latitanza dei compagni La partita del centrocampista romano finisce nell'intervallo e l'ingresso di Mingazzini ha il merito di regalare vivacità alla manovra nera azzurra Nell'altra metà campo Ibrahimovic si fa vedere solo per i continui scambi di cortesie con Natali e Capello preferisce richiamarlo prima che la situazione degeneri È il momento di Del Piero e al 68esimo Natali gli offre l'opportunità per far ricredere Don Fabio Il passaggio di Trezeghe però arriva con un attimo di ritardo e Alex si lascia chiudere dalla difesa bergamasca Tre giri d'orologio e una splendida iniziativa sulla destra di Zebinat sbilancia la difesa nera azzurra Il pallone giunge sul destro di Emerson, l'esterno del Puma gira troppo e il risultato non cambia L'Atalanta butta in campo voglia e cuore ma la generosità dei ragazzi di Rossi non può nascondere limiti offensivi che Makinua e Lazzari non bastano a coprire L'ultimo tassello di un puzzle senza sorprese lo mette l'ingenuità di Motta L'intervento su Camoranesi non lascia spazio a dubbi L'esecuzione dal dischetto di Del Piero non è irresistibile ma è sufficiente per mettere apparentemente in ghiaccio la partita Il numero 10 Juventino potrebbe addirittura tornare da Bergamo con la doppietta ma il colpo di testa sull'invito di Birindelli si perde di poco al lato Lazzari e i compagni non riescono proprio a indirizzare il pallone verso la porta juventina e allora a vivacizzare gli ultimi secondi del match ci pensa Buffon Il clamoroso liscio sul retropassaggio di Turam cambia peraltro solo i termini del successo Quindicesima vittoria stagionale, settima lontano dal delle Alpi e più otto sul Milan Nel freddo pomeriggio di Bergamo poteva andare decisamente peggio